Ciao, ecco il nostro primo incontro. Vediamo adesso di parlare della tecnologia. Che cos'è la tecnologia? Vediamo storia e significato e tutto quello che scopriremo in questi tre anni. Tutto parte circa 2 milioni e mezzo di anni fa, quindi tanto tanto tempo fa, in Africa, quando un ominide prima cacciava prendendo dei sassi, degli oggetti che trovava comunemente attorno a sé, ecco cercava di colpire un animale per riuscire a ucciderlo e quindi mangiare, ma adesso prova a scheggiarne uno per renderlo più affilato, quindi comincia a usare la sua intelligenza. Ecco che nasce la tecnologia e da qui in poi l'uomo la affinerà sempre di più. Ecco, vediamo proprio i passaggi del tempo dell'uomo che si evolve, impara a sfruttare tutto quello che la natura gli offre per cacciare e pescare, usando materiali molto semplici all'inizio, come legno e pietra, ma poi scoprirà il fuoco e quindi inizierà a scaldarsi, a cucinare. Qui siamo già all'uomo erectus, quindi un milione e mezzo di anni fa e grazie quindi a tutto questo l'uomo può diventare sedentario, facciamo un altro grande salto, 10.000 anni fa, forse per caso l'uomo scopre l'agricoltura e scopre come coltivare, scopre i semi e come metterli sotto terra per farli crescere a suo piacimento e quindi non ha più bisogno di spostarsi. Insieme all'agricoltura naturalmente abbiamo l'allevamento, l'uomo quindi può avere anche la possibilità di carne, latte vicino senza dover andare a cacciare e quindi essere anche nel pericolo. Naturalmente gli occorrevano utensili ma anche oggetti che servivano per l'uso quotidiano, per contenere per esempio ciò che coltivava e che produceva e quindi nasce l'artigianato, l'uomo inizia a costruire con le proprie mani gli oggetti. Intorno al 4000 a.C. l'uomo scopre i metalli e scopre anche come si possono fondere per realizzare oggetti di altra natura, come per esempio utensili oppure armi. Naturalmente parliamo di metalli con una temperatura di fusione abbastanza bassa. Nel 3000 a.C. quindi siamo passati avanti ancora di mille anni, ecco che l'uomo costruisce la ruota. Naturalmente la prima era orizzontale, era la ruota del vasaio che serviva appunto per fare i vasi. Passiamo avanti ancora di mille anni e vediamo che l'uomo, mettendo questa ruota in modo verticale, capisce che può costruire dei carri per trasportare gli oggetti e quindi non averli più sulle sue spalle. Poi col tempo affinerà anche la tecnologia della ruota e scoprirà che rendendola più libera, più vuota potrà piano piano fare dei, attutire per esempio i colpi che la strada accidentata poteva avere, poteva dare. Passiamo ancora avanti, siamo in epoca greca e romana e qui la tecnologia delle costruzioni fa dei grandi passi avanti. Qui vediamo una domus romana con tutte le sue stanze, l'uomo poi romano riusciva anche a costruire delle strade che arrivano fino ai giorni nostri, tanto che erano fatte con una tecnologia molto avanzata. Infatti se andate a Roma e provate a cercare l'appia antica potete appunto percorrerla e trovate proprio il selciato romano. Per non parlare poi degli acquedotti che ancora oggi alcune parti le vediamo in giro per l'Europa che trasportavano l'acqua per tanti tanti chilometri. Addirittura a Roma alcune parti dell'acquedotto romano vengono sfruttate ancora oggi naturalmente con la dovuta manutenzione. Ecco che nel medioevo arrivano le macchine. Abbiamo macchine di vario genere, soprattutto macchine che servivano per il lavoro come le macchine, i mulini a vento e ad acqua che servivano per esempio per macinare il grano, per il fabbro, per scaldare la fucina eccetera eccetera. Poi abbiamo le macchine da assedio, quindi per esempio le catapulte e le macchine da costruzione che permettono di costruire edifici sempre più alti come per esempio di questo periodo sono proprio le cattedrali gotiche. Questa è la cattedrale di Santo Stefano a Vienna. Arriviamo al Rinascimento. Cristoforo Colombo parte per scoprire una nuova strada per le Indie e scopre invece l'America con i Veglieri. E dopo di lui tanti altri partiranno per scoprire nuove zone della terra che ancora non si conoscevano. E in questo modo nasce anche la cartografia, proprio per mettere su carta le varie rotte. Ecco quindi chi è nata la scienza nel 1600, quando prima avevamo la scienza che era lo studio dei fenomeni naturali, che era completamente separata dalla tecnologia, che era invece l'applicazione pratica. Ma come dicevo nel 1600 tutto cambia, queste due si fondono, scienze e tecnologie si fondono, e quindi abbiamo che il conoscere la natura ci porta a controllare le forze della natura e in questo modo costruire delle macchine per sfruttare le forze della natura. E questa è proprio la tecnologia a servizio della scienza. Abbiamo quindi i primi scienziati come Galileo, Galileo e Isaac Newton, che appunto hanno iniziato a fare esperimenti scientifici per capire come funzionava il mondo, la fisica, la chimica. Durante la rivoluzione industriale la tecnologia comincia veramente a fare passi avanti molto velocemente. Abbiamo la nascita dell'industria e le prime macchine complesse. Questa per esempio è la macchina per estrarre l'acqua dalle miniere di Newcomen, che poi verrà perfezionata da James Watt qualche anno dopo per realizzare la prima macchina a vapore. Ecco quindi che la tecnologia ormai è in ogni campo della vita dell'uomo. Vediamo quali. Intanto abbiamo la tecnologia agraria. Vediamo le macchine che ci aiutano a coltivare e allevare i prodotti per poter mangiare. Quindi qui siamo naturalmente nel settore primario. Abbiamo poi i materiali più semplici come possono essere il legno, ai più complessi di metalli, le plastiche che sono del secolo precedente, o addirittura materiali più nuovi ancora come può essere il grafene e altri che ancora verranno scoperti. Naturalmente tutti questi devono essere legati alla loro progettazione e al loro fine vita. Quindi il riciclo oppure il riuso possono essere sicuramente delle strade utili da percorrere. Abbiamo la tecnologia dei trasporti. Quindi abbiamo visto appunto in passato la macchina a vapore applicata al treno e adesso addirittura abbiamo i treni ad alta velocità. Avevamo le carrozze con i cavalli, con tutti gli scossoni per via delle strade poco ben messe. Adesso abbiamo le automobili che sfrecciano ad alta velocità. Abbiamo avuto gli aerei dall'inizio del 1900. Questo è il primo aereo dei fratelli Bright. E adesso abbiamo aerei che ci portano tranquillamente da una parte all'altra del mondo. E addirittura siamo arrivati ad andare sulla Luna e a compiere dei giri nello spazio. Naturalmente tutto questo è regolato dal codice della strada. La tecnologia energetica. Partiamo dalle fonti non rinnovabili come erano il carbone, il petrolio e il gas naturale per produrre sempre energia elettrica. E poi abbiamo le fonti rinnovabili di nuova generazione come il solare, l'eolico, le biomasse eccetera eccetera. Anche questo è sempre al servizio dell'uomo per produrre energia elettrica principalmente o anche termica. tecnologia delle comunicazioni. Partiamo quindi dal telegrafo, i primi telefoni, le radio, le televisioni di un tempo e poi abbiamo le lettere trasformate oggi in email. Il computer, questo è un po' datato ed ecco quello più nuovo. Il notebook oppure un tablet, il smartphone, la tecnologia delle comunicazioni, il telefono come si è evoluto. La tecnologia avanza in tutti i campi della nostra vita davvero. Abbiamo poi che dobbiamo progettare però tutto questo, quindi impareremo a fare del disegno tecnico abbastanza basilare per quanto riguarda la scuola secondaria che stiamo frequentando, però naturalmente andando avanti con gli anni potete passare a progettare cose più complesse. Quindi, a cosa serve la tecnologia? Abbiamo visto tante evoluzioni, tante cose prodotte dall'uomo. Ma perché? Cosa serve? Serve a soddisfare un bisogno dell'uomo. A partire dal più semplice, come abbiamo visto all'inizio, quello di mangiare, cacciare e percibarsi, fino ad arrivare al giorno d'oggi. Ecco quindi che la tecnologia deriva dal greco tecnologia, che significa discorso sull'arte, cioè è il saper fare. La tecnica quindi è il fare, tutto ciò che è attività pratica, e invece la tecnologia è il saper fare. La scienza quindi che studia tutti i processi produttivi, metodi, mezzi impiegati, per trasformare le materie prime in prodotti finiti, pronti all'uso. Ecco il nostro percorso che vedremo insieme in questi tre anni.